e un buon day a tutti ci sono e benvenuti da giocherina in questo incredibile fantastico nuovo video ebbene signori e signori quest'oggi andremo ad unboxare ad aprire questo incredibile e direi gigantesco pacco segreto che mi è stato recapitato il mittente del pacco mi ha chiesto di restare anonimo quindi non diremo chi è stato a inviarmelo io ringrazio comunque veramente già in anticipo già l'ho fatto ma ne approfitto per farlo di nuovo ringrazio davvero di cuore questa persona che ha avuto questa incredibile idea perché so che ci ha lavorato sopra davvero parecchio perché è una persona molto meticolosa che tiene molto i dettagli quindi sono davvero molto impaziente di andare ad aprire questo pacco perché non ho la mia idea di cosa possa contenere so che probabilmente ci saranno anche tipo dei piccoli enigmi delle cose davvero fantastiche e inaspettate ragazzi per cui direi di non perdere più tempo ma prima di aprirlo mi raccomando ragazzi spolliciate questo video ma un secondo prima di aprirlo ricordatevi ragazzi di spolliciare questo video se vi piace l'idea perché chi lo sa magari in futuro potrebbero arrivare anche altri pacchi segreti quindi io mi sono munita di taglierino ringrazio anche il cameraman il cui presente Rodrigo IV quindi grazie per il supporto e per l'aiuto mi accingo a tagliare lo scotch e vediamo un attimino ok ragazzi ecco 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 c'è della carta che è stata opportunamente inserita per attutire eventuali colpi quindi togliamo prima di tutto mazza quanta carta prima di tutto ci troviamo di fronte un sacchettino troppo carino che c'è la faccia di un animaletto super cibi guardate quanto è carino e attaccata c'è una busta c'è anche un'altra busta che indica leggimi all'interno è rimasta ragazzi un'altra scatola o forse più scatole allora prima di tirare tutto fuori ovviamente seguiamo l'istruzione ragazzi andiamo a leggere non è una lettera perché attenzione sono le istruzioni per il pacco c'è un elenco super specifico di come unboxare questo pacco quindi già questo ragazzi è indice di quanto sia precisa questa persona dice ho pensato di creare queste istruzioni nel caso non dovesse risultare chiaro l'ordine da seguire e ho inserito i quadratini così man mano che ascolti puoi spuntarli evitando di confonderti infatti ragazzi ci sono anche i quadratini vuoti così da non dimenticare qual è stato l'ultimo passaggio che si è seguito per prima cosa quindi ragazzi istruzione numero uno prendi la pennetta e aprila man mano ti indicherò cosa fare se ascoltare gli audio o aprire cose infatti qui io non l'avevo vista l'etichetta c'è scritto pen drive ce la farò mai ad aprirlo ok ce l'ho fatta con un pochino di fatica mettiamo da parte quest'altro quest'altra busta mamma mia ragazzi c'è quale cose toppe ed ecco la pen drive signori in questione meno male che abbiamo il computer portatile quindi l'abbiamo potuto accendere per tenerlo qui e quindi avere a disposizione anche le istruzioni che sono presenti appunto nella pen drive che siamo come avete potuto vedere riusciti ad aprire ok quindi mettiamo una bella spunta sul punto numero uno istruzione numero due prima di iniziare volevo dirti che mi dispiace del periodo brutto che è passato e spero che il tempo poco a poco rimargini le tue ferite grazie seconda cosa tanti auguri in ritardo per il tuo compleanno prendi questo pacco come regalo grazie ancora di più è la prima volta che creo un pacco così interattivo spero ti piaccia volevo anche tranquillizzarti in anticipo che se senti puzza volevo anche tranquillizzarti in anticipo che se senti puzza di scorregge è colpa del cartone delle scatole a me hanno infettato una stanza addirittura quindi se dovessimo sentire odori strani è tutto normale mi dispiace avevo solo questo in casa don't worry be happy credo di non avere altro da aggiungere direi che possiamo iniziare istruzione numero tre torniamo alla pendrive apri istruzioni quindi apriamo le istruzioni ragazzi ok numero tre fatto numero quattro apri aprire i pacchi apriamo quest'altra cartella perfetto numero quattro fatto numero cinque apri audio uno dodici ok quest'ulteriore cartella e istruzione numero sei ascolta l'audio numero uno quindi sentiremo la voce di questa persona ciao per iniziare questo video interattivo devi per prima cosa sistemarti in un posto comodo con i pacchi in fila davanti a te e iniziare a filmarti per una maggior qualità audio del video ti consiglio di ascoltare i miei audio con dei auricolari e aggiungere le mie tracce successivamente in posto produzione bene questo era il primo audio quindi io saluto questa persona abbiamo scoperto che si tratta di una ragazza quello che ci ha detto ragazzi è di metterci comodi e di mettere pacchi che sono all'interno del mega pacco gigante sparsi insomma aperti davanti a noi quindi andiamo a tirare fuori le altre scatole ok ragazzi missione compiuta abbiamo svuotato il mega pacco gigante ecco qua i pacchi che erano al suo interno sono quattro scatole tutte della stessa grandezza ma pesano anche in maniera diversa ed è vero aveva ragione puzza di scorreggio c'è un po' di puzza di merda da notare che sulle scatole è anche indicato il numero quindi abbiamo pacco numero 1 pacco numero 2 pacco numero 3 e pacco numero 4 cosa ci sarà mai all'interno di questi 4 incredibili pacchi lo scopriremo soltanto seguendo le istruzioni quindi una volta fatto questo adesso non ci resta che seguire l'istruzione numero 7 quindi ascolta l'audio numero 2 aperto il pacco oltre alla pendrive contenente questi audio che stai ascoltando hai trovato una busta aprila e si riferisce a quest'altra busta che era appunto assieme alla bustina che conteneva la pendrive per cui andiamo ad aprirla e vediamo cosa c'è all'interno altre bustine nella busta che meraviglia le buste nella busta ragazzi e indicano la soluzione ai vari pacchi pacco numero 1 pacco numero 2 pacco numero 3 e pacco numero 4 intanto abbiamo aperto andiamo a seguire la nuova istruzione che dice apri la busta fatto e ascolta l'audio numero 3 qui ci sono altre buste più piccole se non riuscirai ad andare avanti con il gioco e si ti ho appena scolerato che faremo un gioco dicevo se non riuscirai ad andare avanti potrai usare queste buste contenenti le soluzioni ah dimenticavo un'ultima cosa ti consiglio di prendere appunti adesso ti lascio il video e buon divertimento oh mio dio ragazzi sembra non so se voi avete mai giocato al gioco da tavola ragazzi degli scape room che c'erano le bustine sono gli indizi ci stanno le cose e ci stanno giustamente poi delle buste di soluzione quindi è questa è la stessa identica cosa ragazzi se non dovessi riuscire a venire a capo degli enigmi che ci troveremo di fronte potrò insomma farmi dare un aiuto appunto da queste soluzioni in busta allora ragazzi noi stiamo registrando questo video una volta che abbiamo già finito l'unboxing da bravi imbecilli noi ci siamo completamente dimenticati che le soluzioni alle domande erano qua dentro quindi non serviva andare a cercare su google come abbiamo fatto in quanto l'enigmista da brava professionista aveva inserito le risposte corrette alle domande in queste apposite buste perché io le chiedo scusa chiedo scusa a tutti voi ragazzi ma nell'eccitazione del momento perché eravamo veramente gasatissimi all'apertura di questo pacco ci siamo completamente dimenticati di avere lì le soluzioni quindi niente ragazzi vabbè è andata così in ogni caso ringrazio di nuovo l'enigmista per l'organizzazione incredibile che ha messo in questo pacco per cui le mettiamo un attimino qui da parte quindi quello che ci ho consigliato di fare è di prendere appunti io userò questo praticissimo blocchietto questa penna e andiamo ad incominciare il gioco l'istruzione numero 9 dice di ascoltare l'audio numero 4 ciao giocherina e ciao chi sta guardando questo video finalmente dopo tanto sono riuscita a preparare a mandarti questo pacco davanti a te ne hai precisamente 4 tutti numerati disposti in fila sicuramente vi starete chiedendo chi sono ma mi dispiace non è oggi il giorno in cui avrete una risposta a questa domanda direi che possiamo iniziare ha fatto una piccola presentazione ha salutato tutti quanti quindi anche molto simpatica ed educata e quindi appunto ci ha illustrato di nuovo che abbiamo di fronte a noi 4 pacchi non svelerà la sua identità quest'oggi chissà magari più avanti per cui andiamo a leggere l'istruzione numero 10 che dice ascolta l'audio numero 5 ma sono un gioco con te scusa dicevo voglio fare un gioco con te in questi pacchi ci sono dei regali che spero possono piacerti ma aprirli non sarà così semplice come pensi te li dovrai guadagnare per ognuno di loro dovrai rispondere ad una domanda avrai anche tre risposte ma attenta solo una è esatta immagino adesso tu sia curiosa quindi forza sì sì sono estremamente curiosa perché a maggior ragione dice è che non sarà tanto facile riuscire ad aprire questi pacchi e che ci sarà soltanto una risposta corretta alle domande quindi andiamo a vedere l'istruzione numero 11 dice di ascoltare l'audio numero 6 prendi il pacco numero 3 ma ferma non aprirlo ancora prima devi rispondere ad una domanda mi sembra di aver capito che ti piacciono i film Disney in particolare le cattive Disney attualmente i classici Disney sono 60 lo sapete anche se non in tutti troviamo la presenza di una cattiva voglio sapere da te in ordine di uscita dei film Disney in quale compare la prima cattiva Disney nel primo nel terzo o nel sesto film voglio aiutarti con la prima domanda il film in questione è uscito nel 1937 porca miseria ci troviamo di fronte a dei veri e propri quiz ragazzi ovviamente sa che mi piace la Disney sa che mi piacciono i villain la domanda è molto interessante in ordine di uscita ha detto il primo il terzo o il sesto e penso di sapere la risposta ragazzi perché il primo film della Disney ufficiale lungometraggio è stato Biancaneve e i sette nani ed è proprio in quello che troviamo la prima cattiva della storia dei lungometraggi Disney sarebbe a dire Grimil della regina cattiva che si trasforma poi in strega cattiva l'istruzione numero 12 quindi dice rispondi e ascolta l'audio numero 7 brava hai risposto correttamente almeno spero in realtà non posso saperlo dato che questo è un audio registrato ma se non avrai risposto correttamente potresti avere dei problemi più avanti adesso puoi aprirlo per correttezza ragazzi ovviamente siamo andati a verificare che la risposta fosse corretta e da quanto dice Google a quanto pare la risposta era proprio giusta Grimilde è la prima strega in matrigna cattiva della storia dei lungometraggi Disney quindi il pacco da aprire in questione ha detto che era il pacco numero 3 quindi non siamo neanche partiti dal pacco numero 1 e visto che la risposta è corretta non dovremmo avere problemi più avanti a quanto ha detto quindi apriamolo vediamo un po' cosa contiene mai questa scatola puzzolente di scorreggia ma si è preoccupata anche di incartarli questi pensieri grazie guardate che carino il pacco userò il taglierino fedele amico in questo caso mi dispiace rovinarlo ragazzi sinceramente perché solitamente la parte più bella sono proprio le confezioni quindi togliamo il fiocchetto e andiamo ad aprire questo pacchetto grazie io la ringrazio ancora di cuore davvero per i regali perché a quanto pare ci sono dei pensieri all'interno si è stata veramente un amore grazie vediamo un po' di cosa si tratta ha parlato di film disney magari è qualcosa di correlato io e Rodrigo siamo d'accordo sul fatto di chiamarla l'enigmista da adesso in avanti ho avuto un'idea veramente carina quindi vediamo un po' oh mio dio oh ma che bello e ragazzi un libro dedicato a disney villains in questo caso wow a crudelia demon secondo me uno dei villain più terrificanti forse nella storia dei lungometraggi disney ma che bello grazie poi tra l'altro io giusto poco tempo poi avevo iniziato la nuova collana di giunti che insomma riguardava proprio le storie disney quindi ci ha azzeccato in pieno io adoro leggere tra l'altro quindi un regalo apprezzatissimo grazie 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 ok allora ragazzi mettiamo da parte questo primo bellissimo regalo lo mettiamo qua e incredibile ma vero andiamo già a leggere la tredicesima istruzione che diceva appunto apri il pacco numero 3 quindi l'abbiamo fatto istruzione numero 14 ascolta l'audio numero 8 il secondo pacco è il numero 2 sei una fan di The Walking Dead o meglio di Megan bene allora dimmi in che stagione viene introdotto il suo personaggio nella stagione numero 4 numero 6 o numero 7 oh mio dio sta vogliendo tutte le cose che adoro di più perché appunto chi mi conosce bene lo sa ragazzi Megan è il mio personaggio preferito di The Walking Dead anche lui villain tra l'altro giusto per restare in tema e qui rimango un attimino interdetta stagione numero 4 numero 6 e numero 7 allora sulla 4 sono sicura di no perché è troppo è troppo indietro quindi sono indecisa fra la numero 6 e la numero 7 però fa un riepilogo forse la 7 però dura 2 stagioni quella di Megan allora la 6 dura 6-7 poi ci stanno 8-9-10 sì è probabile allora è la sesta ok abbiamo fatto io e Rodrigo un piccolo riassunto di quelle che sono appunto le stagioni di The Walking Dead senza barare ragazzi vi assicuriamo che non siamo andati a controllare su Google e anche se è molto difficile fare un riassunto perché l'abbiamo vista insomma le stagioni diverso tempo fa e comunque sono tante e le vicende sono tante quindi riuscire a riassumere tutto è complicato noi siamo giunti alla conclusione che molto probabilmente la stagione in cui viene introdotto Negan è la sesta perché lei ha detto 4-6-7 noi diciamo che è la sesta quindi la risposta ufficiale è la sesta stagione quindi l'istruzione numero 15 dice rispondi abbiamo risposto quindi la stagione 6 e ascolta l'audio numero 9 questo pacco mi dispiace ma non potrei aprirlo adesso ma dovrei farlo in un video dedicato quindi mettilo da parte e prendi il pacco numero 1 oh mio dio quindi un unboxing nell'unboxing ragazzi a quanto pare questo dovremmo aprirlo in un video dedicato ha usato proprio queste parole quindi lo terrò da parte e quando ragazzi questo video raggiungerà i 100 like arriverà il video unboxing di questo ulteriore pacco l'enigmista ragazzi incredibile crea video nei video pacchi nei pacchi buste nelle buste messo da parte il pacco 2 per il quale ci dovrà essere un video a parte richiesto apposta dall'enigmista stesso e da voi ragazzi ha detto di prendere appunto il pacco 1 intanto segniamoci che abbiamo risposto stagione 6 quindi ce lo siamo segnati adesso istruzione numero 16 posa il pacco numero 2 e ascolta l'audio numero 10 da alcune delle tue storie instagram ho visto che sei un po' in fissa con i panda ma li conosci davvero così bene? sai dirmi il numero di cuccioli massimo che può partorire? 1 3 o 5? ok è vero sono in fissa con i panda adoro i panda tant'è vero che il mio canale twitch ragazzi è praticamente a tema panda li adoro sono meravigliosi e so anche la risposta mio caro enigmista questa volta non mi puoi fregare perché i panda ragazzi possono avere al massimo un cucciolo per volta per essere sicuri ovviamente dopo aver risposto andiamo a controllare la risposta su google google come sempre ha la risposta a tutto quindi dice la femmina di panda cresce solo un cucciolo e se nascono due gemellini si prende cura di uno solo quindi praticamente mamma panda ragazzi più di un cucciolo per volta non c'è a fare quindi la risposta corretta era 1 andiamo a vedere le istruzioni rispondi e apri il pacco numero 1 quindi istruzione numero 17 la risposta tra l'altro era corretta fortunatamente quindi andiamo adesso ad aprire ragazzi il pacco numero 1 eeeh ooooh oh mio dio ma grazie ci ha messo anche delle freni in battezza oh mio dio non so manco se posso fare la pubblicità diciamo così però insomma vabbè ormai si è visto ragazzi sti cazzi ma che bello i bagli occhi al pistacchio probabilmente ha pensato un po' più a rodrigo o non lo so rodrigo adora il pistacchio quindi si sono per me fantastici poi abbiamo ragazzi le gocciole al caramello che noi non abbiamo ancora provato tra l'altro sono un'edizione speciale quindi le assaggeremo per la prima volta grazie all'enigmista all'interno ancora uuuuh ghiaccioli ragazzi purtroppo siamo un po' in ritardo perché il pacco adesso la devo dire tutta ragazzi mi è arrivata in piena estate purtroppo causa impegni non abbiamo potuto registrare prima di adesso però per fortuna i ghiaccioli non si rovinano quindi in ogni caso sono sempre graditissimi uuu dopodiché abbiamo un barattolino meraviglioso ragazzi di pesto di pistacchio ragazzi viene proprio da bronte cioè il pistacchio di bronte sappiamo di cosa stiamo parlando quindi che bontà sicuramente una bontà poi ultima bevanda ragazzi è unica bevanda del pacco questa bellissima cioè allora io non so se è un'edizione speciale o cosa ma questa lattina è meravigliosa ragazzi lattina di monster mango loco quindi al gusto mango ma da notare quanto cacchio può essere bella questa lattina ragazzi a tema dia de los muertos messicano è veramente bellissima inoltre probabilmente ultimo ma non meno importante c'è anche questo pacchettino taglio via il fiocchetto come prima con il mio caro taglierino che mi combina questa enigminista ragazzi che mi manda tutte queste cose meravigliose grazie grazie la vediamo cosa c'è cosa ci sarà mai dentro questo pacchettino così carino qualcosa di carino molto probabilmente oh mio dio ragazzi da notare che la scatola contiene sempre un riferimento alla domanda c'è qua abbiamo questo quadernino troppo carino I'm fantastic grazie ho troppo cibito grazie oddio il fattino ciccino adesso mi riprendo adesso mi riprendo ok ragazzi non prendo tutto in mano perché sennò mi cade qualcosa ma secondo pacco incredibile io davvero non so cosa dire non so cosa dire grazie 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 di nuovo ok ragazzi ho cercato di riprendermi un attimo sono tornata a posto sono composta e tutto il resto quindi grazie ancora pure il secondo pacco una cosa incredibile quindi adesso non ci resterà che il pacco numero 4 ma ma torniamo a leggere le istruzioni l'istruzione numero 18 dice di ascoltare l'audio numero 11 siamo arrivati all'ultimo pacco il numero 4 l'ultima domanda ho pensato di farla su Joker non poteva mancare dimmi ad oggi quanti sono gli attori che hanno interpretato il personaggio di Joker 4 5 o 7 questa è una domanda tra bocchetto è una domanda tra bocchetto perché magari uno potrebbe rispondere pensando solo ed unicamente proprio ai grandissimi attori tipo un Nicholson tipo un Ledger che hanno interpretato il Joker ma non bisogna dimenticare ragazzi che c'è stato un attore famoso tantissimi anni fa che ha interpretato il Joker nella serie di Batman ragazzi quella super vintage quella vecchissima me lo ricordo perché tra l'altro aveva un punto distintivo perché quest'attore aveva i baffi però non aveva la minima intenzione di tagliarli per insomma interpretare il ruolo e quindi praticamente gli avevano dipinti di bianco insieme al resto del trucco quindi c'era prima quell'attore lì che non ricordo purtroppo come si chiamava quindi di cui non ricordo il nome poi se non sbaglio non vorrei dire una castroneria c'era Jack Nicholson dopodiché c'è stato ovviamente ragazzi ma tutti grandissimi tutti grandissimi c'è stato ovviamente Heath Ledger dopodiché c'è stato un altro ragazzo un altro ragazzo che ha interpretato se non sbaglio Joker nella serie Gotham quindi non so se lei ha tenuto in conto anche quello o se magari mi sto ricordando male io ma se non sbaglio ho interpretato Joker nella serie Gotham quindi siamo a 4 e ragazzi poi c'è ovviamente Phoenix nell'ultimo film però lei ha detto 4 6 o 7 lei ha detto che le risposte possono essere 4 5 o 7 quindi è fatto direttamente un salto io fino ad ora ragazzi ne ho considerati 5 però mi sta rivenendo in mente perché quello ovviamente l'ho voluto penso eliminare dalla mia mente purtroppo il Joker di Jared Leto in Suicide Squad quindi anche lui ovviamente ha interpretato quel ruolo però siamo a 6 siamo a 6 quindi o lei non ha tenuto in considerazione quello della serie Gotham e quindi ha tenuto in considerazione 5 attori o ne manca uno me ne sto dimenticando uno quindi dovrebbero essere 7 perché la risposta 6 non c'è quindi a questo punto non lo so il punto è che mi sta venendo un grosso dubbio se quello della serie Gotham fosse davvero il personaggio di Joker io non ho guardato la serie però mi sembrava di ricordare che qualche attore avesse interpretato il ruolo di Joker però magari ragazzi andando per esclusione ed escludendo appunto questo personaggio della serie Gotham di cui non sono sicura al 100% fosse Joker magari restiamo allora su 5 quindi rispondo 5 dico che gli attori che hanno interpretato questo ruolo sono stati 5 ok ragazzi siamo andati ovviamente a cercare la risposta sul fidato Google e togliendo il ruolo minore appunto della serie Gotham come avevo immaginato proprio i più grandi volti che hanno dato vita a questo personaggio ragazzi sono appunto 5 quindi la risposta è corretta quindi istruzione numero 19 rispondi e apri il pacco numero 4 quindi tra l'altro abbiamo risposto correttamente andiamo ad aprire anche questo ultimo incredibile pacco cosa ci avrà messo all'interno l'enigmista andiamo a vedere oh mio dio oh mio dio attenzione ragazzi allora da notare che c'è un lucchetto a combinazione quindi non è immediata l'apertura di questo regalo quindi l'istruzione numero 20 dice di ascoltare l'audio numero 12 come vedi c'è un lucchetto hai bisogno di una combinazione mi hai ascoltato prima e hai preso appunti se non l'hai fatto ragiona dove puoi trovare questi 4 numeri sono le risposte le risposte ragazzi perché erano tutti numeri quindi la prima quindi era il numero 1 era il primo il terzo era biancaneve quindi il numero 1 la seconda domanda riguardava nigan quindi noi abbiamo letto stagione numero 6 poi la terza domanda riguardava i panda quanti cuccioli possono avere quindi era 1 e l'ultima riguarda i joker quindi abbiamo supposto la risposta corretta fosse appunto 5 e poi qui dice ragazzi istruzione numero 21 torna indietro e apri la cartella suggerimenti 13 18 prima di andare a magari ad ascoltare i suggerimenti proviamo ad aprirlo ragazzi perché di regola abbiamo trovato la soluzione all'enigma che sarebbe 1 6 1 5 1 6 1 5 mi sa che l'enigmista ci ha fregati ragazzi andiamo ad ascoltare i suggerimenti perché qua dice ascolta suggerimento numero 13 infatti c'è un'altra cartella ragazzi che potete vedere contiene questi altri audio quindi ascoltiamo il 13 hai fatto caso che le risposte alle domande sono dei numeri ok e fino a qui ci eravamo arrivati ragazzi quindi che le risposte erano dei numeri ma non lo so evidentemente non sono quelli corretti andiamo ad ascoltare il suggerimento 14 hai provato la combinazione delle risposte e non si apre beh io ti ho solo detto che le risposte alle domande erano dei numeri non che fossero la combinazione ci ha fregato alla grande l'enigmista perché pensavamo di aver trovato la soluzione volevi e invece invece proprio no quindi andiamo ad ascoltare anche il suggerimento 15 ragazzi vediamo che aiuto ci dà in realtà la risposta l'hai avuta sempre sotto gli occhi pensaci bene l'ordine dei pacchi probabilmente la risposta è l'ordine dei pacchi cioè depistato facendoci credere che fossero invece le risposte però la prima cosa che ho notato io ragazzi è che l'apertura dei pacchi non era in ordine cronologico non era 1,2,3,4 ma era e ce l'abbiamo scritto qui 3,2,1,4 di regola dovrebbe essere quindi venite con me e proviamo 3,2,1,4 ce l'abbiamo fatta enigmista ti ho fregato si dopo 4 suggerimenti quindi per curiosità ragazzi ascoltiamo anche il 16 probabilmente ci dava proprio questo indizio guarda l'ordine con cui ti ho detto di aprire i pacchi c'eravamo arrivati eh vabbè è troppo forti prima dell'ultimo suggerimento l'istruzione numero 26 dice quindi di aprire il lucchetto e questo l'abbiamo fatto poi ascolta fine 17 allora ragazzi nelle istruzioni non c'è scritto nello specifico di aprire il pacco ma io suppongo che aprire il lucchetto poi implichi aprire il regalo quindi prima di ascoltare i due audio finali apriamo il pacchetto dotato anche di un incredibile lucchetto a combinazione sembra di essere ragazzi in il skip room che figata ok via il nastrino via il taglierino strappiamo insomma i regali si devono strappare vediamo un pochettino che cosa abbiamo qui oh mio dio oh mio dio sono io oh mio dio no c'è vestita la panda col trucco da giocare la cravatta da giocare è la mazza di me porco dici guarda sono io oh mio dio ragazzi sono io col costume da panda il trucco da giocare il panciotto da giocare e no la mazza si è spostata è la mazza di me che causa la mazza oh mio dio oh mio dio oh mio dio è un Funko Pop perché ha personalizzato no ma è una delle cose più epiche che io abbia mai ricevuto con l'attriccia e tutto il resto forse magari adesso ragazzi lo potete vedere meglio perché bisogna notare anche il dettaglio del costume da panda cioè che sembra fatto proprio pelosetto cioè e poi il dettaglio del fatto che c'è il trucco sulla faccia perché qua intorno comunque c'è il colore del viso ma c'è il trucco da joker e il costume da panda ha il panciotto la cravatta da joker e c'è Lucille cioè e in più mi ha fatto con l'attriccia laterale come ragazzi ero tipica a portare anni fa e tutto il resto cioè io penso davvero ragazzi che questa sia una delle cose più epiche che mi siano mai state regalate perché è proprio cioè sono io sono io fatta Funko Pop riassumendo tutte le cose che mi piacciono cioè io io sono veramente senza parole ragazzi tra l'altro l'ha personalizzato lei perché ovviamente si compra ragazzi il Funko Pop a quanto pare completamente neutro io non sapevo che si potesse fare questa cosa evidentemente arriva il Funko Pop neutro e poi lo si personalizza come più si preferisce e quindi significa che queste cose lei le ha fatte a mano le ha fatte a mano ragazzi le ha fatte a mano il costume da pandino c'ha anche la codina ma il costume c'ha anche il faccino no lo devo tirare fuori ragazzi 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 cioè di cosa stiamo parlando cioè c'è anche il sangue e tutto su Lucille ma le gambotte ma guardate qua no vabbè e qua oddio che bello da dietro ma è bellissimo oh mio dio ragazzi cioè guardate no comunque veramente i dettagli davvero ragazzi una giocherina pandosa Negan con Lucille cioè è veramente è veramente una cosa unica cioè una cosa unica che non esiste che non esiste da nessun'altra parte nel mondo lei ha fatto apposta per me ed è personalizzato su di me veramente io sono sono senza parole ragazzi non so cosa dire quindi adesso ragazzi andremo ad ascoltare appunto i due audio finali quindi fine 17 e fine 18 ecco finalmente il tuo ultimo regalo un funko pop personalizzato se ti stai chiedendo come è stato realizzato è un funko normale base e sopra l'ho decorato con delle passe polimeriche successivamente cotto in forno cioè cioè siamo giunti alla fine spero ti sia piaciuto questo mio regalo ci sentiamo nel prossimo video quando deciderai di aprire il pacco numero 2 a presto a te e a chi sta guardando questo video ciao ciao io di nuovo ringrazio davvero di tutto cuore all'enigmista perché immagino comunque tutto il tempo il lavoro che ci sia voluto per preparare tutto questo perché ragazzi può sembrare una cosa semplice ma non lo è perché non si tratta ovviamente soltanto di preparare i pacchi in sé ma è tutto il pensiero e il lavoro che ci sta dietro a maggior ragione su un funko pop così personalizzato quindi grazie 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 veramente di cuore all'enigmista vi ricordo ragazzi che appunto possiamo incontrare di nuovo l'enigmista in un ulteriore video unboxing del pacco numero 2 perché vi ricordo che quello non lo abbiamo ancora aperto per cui se volete quel video vi ricordo di raggiungere almeno i 100 like ma attenzione sembrava che la cosa fosse finita qui ma non lo è perché l'istruzione numero 29 dice che appunto il video potrebbe finire qui decidi tu se volerlo continuare non volevo forzarti quindi ti ho lasciato la possibilità di chiuderlo con la traccia numero 18 se invece ti piace ti va l'idea delle tracce successive ascoltale nel video infatti ragazzi c'è una cartella c'è una cartella che indica il finale alternativo per cui ci sono altre due tracce audio da ascoltare e io direi che l'enigmista ha fatto tutto questo gran lavoro per cui si merita assolutamente che ascoltiamo anche queste due ulteriori tracce audio ha dimenticato il pacco numero 4 ha un doppio fondo aprilo e prendi il bigliettino attenzione attenzione perché l'enigmista ci ha fregato anche questa volta venite a vedere ha visto il fancopop non ci ha capito più niente non ci ho capito più niente ma guardate un po' come ha camuffato bene il fondo della scatola perché è vero c'è un doppio fondo oh mio dio e c'è un numero ragazzi soltanto un numero i segreti si infittiscono signori perché quando pensavamo che fosse finita non era ancora finita quindi andiamo ad ascoltare l'ultimo vocale queste sono delle coordinate se vorrai e se capirai dove raggiungermi mi troverai lì se accetterai ti farò sapere quando ciao ciao ebbene l'enigmista ci ha praticamente svelato le sue coordinate per questioni comunque di privacy non mostreremo i numeri che sono scritti qua sopra ma io la ringrazio perché questo comunque ragazzi è un grosso segno di fiducia nei nostri confronti chiaramente quindi ringrazio ancora di cuore l'enigmista in caso dovesse essere possibile sarà per noi un grande piacere sicuramente andarla ad incontrare di persona e quindi questo incredibile e pazzesco unboxing forse l'unboxing più assurdo e strano che io abbia mai fatto ragazzi sul mio canale youtube finisce qui ma non finisce qui perché appunto vi ricordo che abbiamo ancora questo da aprire e credo che fra i quattro tra l'altro sia il più pesante signori quindi c'è ciccia qua dentro ciccia che l'enigmista ci ha lasciato per un prossimo video per cui ricordatevi di spolliciare ragazzi a 100 like registreremo l'unboxing nell'unboxing del pacco numero 2 quindi io e anche con un po' d'amarezza perché è stata un'esperienza veramente bellissima direi che questo video può terminare qui ovviamente ragazzi aspetto tutti i vostri pareri qua sotto in commento che cosa vi è sembrato di questo unboxing veramente incredibile cosa pensate dell'enigmista io penso che abbia delle doti veramente straordinarie perché ci vuole tanto ragazzi tanta inventiva tanta creatività e anche tanta dedizione per fare una cosa del genere io la ringrazio di tutto cuore di aver voluto impiegare tutto questo e tutto il suo tempo per fare questo per me quindi ripeto in futuro chissà se magari l'enigmista dovesse deliziarci con qualche altro pacco a sorpresa io la ringrazio ancora di cuore davvero di tutto cuore per tutto questo ringrazio tutti quelli che hanno voluto guardare questo video vi ricordo di spolliciare ragazzi per il prossimo unboxing e niente ci vediamo comunque nel prossimo video grazie veramente di cuore a tutti ragazzi io vi mando un saluto un bacione e hop da ciao a tutti ragazzi da giocherina e da rodrigo ciao ciao